ciao bella raga benvenuti in questo nuovo video da ciro allora riporto questa bellissima novità ragazzi questi due pincencini sono seguiti da tutte le parti anche su instagram vi sto parlando di rosalinda cannavo e andrea zenna prove di loro ragazzi oggi sono stati una parte molto particolare vediamo il video l'ho pagato comunque siamo rientrati a milano questa è la settimana del salone del mobile e qui è un delirio e si muore tra l'altro anche di caldo è proprio perfetto rientro alla grande finalmente a casa oggi sono abbastanza distrutta tra viaggio e alzataccia veramente prestissimo perché siamo riusciti a trovare un entrano solo di mattina presto poi arrivi a casa e comunque la casa da sistemare le lavatrici infinite da fare i vari vestiti accumulati durante i viaggi appuntamenti di lavoro insomma sono cappa eccoci qui ragazzi abbiamo visto il video di rosalinda allora rosalinda vediamo che sei stata a una fiera di auto qualcosa in particolare bravissima che ti fai riprendere da andrea e tu a volte riprendi andrea allora mi chiedono con voi c'è anche il piccolo chino no non si sa non lo sappiamo ragazzi allora ragazzi comunque vi ricordo sempre se questo video vi è piaciuto mettetemi un like scrivete un commento sotto qua noi ci vediamo al prossimo video da Ciro Mancini è tutto ciao bella raga ciao